Mi presento, sono Budimina Andreini, in arte, Maddalena. Qual è la mia arte? Ma è semplice, le vedete queste? Sono carte, no, non carte da gioco, carte che predicono a futuro. Io abitavo qua, in questa casa, e quindi, ricevendo dei piedi, non lo erano. Avevo una predilezione per i clienti di sesso maschile. Ma se le donne sono così noiose, vogliono sempre solo sapere qualcosa che riguarda l'amore, non potevi dire loro che l'amore non esiste, che l'amore è una misteri scena, creata dagli uomini per il loro piacere, o per avere una serba non pagata. O poi forse ci sarà anche qualche eccezione, ma questa è la conclusione che sono giunta nel corso della mia vita.